Adesso non ci manca che andare ad alzare il velo su quella che è l'ultima strategia per questa settimana della scuola degli analisti e in generale di tutto il format di House of Trading. Ultima carta, Riccardo, è ancora una carta verde e il sottostante è Enel, quindi rimaniamo sempre in ambito italiano. Un italiano che direi sta piacendo, con quali motivazioni approccia una strategia rialzista su Enel? Questa volta più che motivazioni tecniche sono motivazioni di stampo fondamentale. L'annuncio comunque di Volkswagen di volersi espandere entro il 2030 nel campo delle auto elettriche, quindi di voler portare almeno il 70% del comparto di vendita nel settore delle auto elettriche, ha fatto sì che Enel potesse essere uno dei principali partner, principali player del suo piano industriale. Quindi Enel al di là di tutto è sempre stato l'evergreen per gli investimenti di lungo termine, per tutti gli azionisti, per gli investitori, perché comunque ha sempre dato garanzie e ovviamente certezze per quanto riguarda la distribuzione di dividendi. In questo caso a maggior ragione potrebbe essere un ulteriore motivo per un trade rialzista, volendo anche di lungo termine, proprio in vista del piano industriale di Volkswagen, che la vede inglobata all'interno appunto del suo piano di espansione sul settore delle auto elettriche. Ed effettivamente Enel, da quando ha rilevato Enel Grieger, quando era quotata in borsa, ad aver iniziato a cambiare passo e sempre più negli ultimi anni, anche con quella che Enel X ha sviluppato, il focus sulla distribuzione dell'energia, è un tema che non interessa solo l'andamento, o meglio i mezzi di movimento, quali possono essere le macchine, ma anche quelle città che sono rappresentate dalle smart grid e tutta l'Internet of Things che ruota attorno all'elettrificazione dell'economia. Quindi andiamo a vedere i livelli operativi. Allora, livello di ingresso è 8 euro, stop loss 7,50 euro e target 9 euro. Livello di convinzione è 4 stelle Riccardo, perché appunto il livello di convinzione si lega molto alle motivazioni di cui ti ho detto prima, per me è sempre rappresentato comunque un investimento di lungo termine abbastanza sicuro.